Tirana è un'azienda specializzata nella messa a punto dei processi di microlavorazione laser finalizzati alle lavorazioni conto terzi. Grazie a questa tecnologia noi possiamo lavorare qualsiasi tipo di materiale con precisioni che possono raggiungere l'ordine del micron. Nel settore dell'industria farmaceutica la nostra tecnologia viene usata per forare le fiale che vengono usate per contenere medicinali. Un altro esempio di applicazione è la foratura di lamelle che sono dei componenti per i flussimetri usati in ossigenoterapia. I fondi dell'Unione Europea, in particolare il Seed Money, è stato fondamentale all'inizio per la fase di avvio dell'azienda. Queste tecnologie non possono prescindere da l'acquisizione di strumenti, di attrezzature, di componenti che sono molto costosi. Sicuramente all'inizio di Tirana i fondi sono stati utilizzati assieme ai fondi dell'azienda per acquisire questa tecnologia. L'esempio che ho fatto prima è un esempio tangibile di come la nostra tecnologia può essere usata per migliorare la qualità della vita dei malati. Noi siamo rimasti aperti per garantire la fornitura di questi componenti fondamentali per la realizzazione di flussimetri di utilizzo negli ospedali. Purtroppo le richieste sono aumentate durante questa fase di pandemia e quindi abbiamo dovuto acquisire una nuova sorgente laser per soddisfare la richiesta. Possiamo dire che questi fondi hanno aiutato Tirana a costituirsi. Creare un ecosistema innovativo ha delle ricadute positive per la vita di tutti i cittadini in termini di sviluppo di opportunità lavorative per i giovani, miglioramento della qualità della vita perché ci sono più opportunità sul territorio e il territorio diventa più competitivo e quindi migliora un po' tutto.